Allora, Renato Cecchetto, attore doppiatore, quali sono stati i suoi inizi in questo mestiere? Ho cominciato tanto tempo fa facendo l'attore e poi ho continuato a facendo, non saprei dire di meglio, quello che succede facendo questo mestiere, tutto fatto di casualità e di conti. Allora, lei la voce, suo 3D check anche di John Candy, è stata la voce di John Candy, c'è un suo lavoro a Leggio al quale è particolarmente legato? No, diciamo che sono più legato al mio mestiere di direttore di doppiazza, mi piace anche più dirigere gli attori e sentire le domande che sono regolabili, come la signora Giacchetto e poi vorrei chiedere, lei che consiglierebbe agli aspiranti attori doppiatori? di studiare, la vecchia, dritta, unica strada, preparata. Ecco, la ringrazio. Prego, signora Giacchetto.